Aria fresca in casa E se hai le mani occupate, nessun problema. Ci pensa BuzzAway. Grazie ai suoi 18 potenti magneti, che si sganciano e si riagganciano all'istante, ora potrai entrare e uscire comodamente da uno spazio all'altro, della tua casa e in totale libertà. BuzzAway è perfetta per singole porte, porte scorrevoli, ed è ideale per il tuo camper. Non dovrai più avere almeno una mano libera o attendere che qualcuno ti aiuti. Inoltre puoi dire addio alle porte aperte o alle porte che sbattono. Ci pensa BuzzAway, la zanzariera a tutto fare. BuzzAway è facile e veloce da installare. Niente più chiodi, viti e attrezzi. BuzzAway si monta in pochi secondi, senza sforzi e senza danneggiare i telai delle tue porte. Non solo, oltre alla tua famiglia, è ideale anche per i tuoi animali domestici. Non dovrai più scomodarti per aprire porte o finestre. Grazie a BuzzAway potranno entrare e uscire comodamente e senza problemi. Goditi l'aria fresca senza alcun fastidio. BuzzAway trattiene innocuamente gli insetti e rispetta l'ambiente. Puoi dire basta a condizionatori o a zanzariere costose. E quando la stagione finisce, potrai mettere BuzzAway comodamente da parte e conservarla per l'anno successivo. Usane una o più di una per la tua casa e per il tuo camper. BuzzAway, la zanzariera magica a tutto fare.